Questo è vero. Certo, sono d'accordo. E credo che questo in qualche misura sia stato in un certo senso ripreso dai Templari ed è uno dei motivi per cui poi sono stati perseguitati e mandati a rogo. Beh, c'erano anche altre cose per i Templari. Sì, beh, questo lo so, li conosco piuttosto bene. Però ti metto prima a parlare appunto di Cesare Beccaria. Ti faccio un riassunto del concetto adesso per radio. Ti ringrazio molto. Grazie a te. Ciao, grazie Claudio. Ecco, serve l'unica cosa da dire sulla massoneria. Che la massoneria ha tolto il concetto di Dio unico in Italia solo nel 1973. Prima anche la massoneria credeva di un Dio unico. Sì, sono Alessandro. Ciao Alessandro. Buongiorno signori, non è possibile ascoltarlo continuamente perché mi sa un caraggio. Scusate, non si chiude la radio, vado su Radio Maria e non sono contenti con ciò di studio. No, 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 non stanno mettendo un po' in bocca a te. Ma guarda di te, siete mani in aria, siete mani sterco di animali. Che caro? Francesco è più intollerante di me, giustamente. Niente, rispondiamo invece all'amico Flavio. Il concetto reale, quello che lega Beccaria al paganesimo, è il sentire la libertà nel circostante. Cioè, una parte del divino nostro interno che ci lega a tutto il divino del circostante è il concetto di libertà. Cioè, la nostra capacità di adattarsi per costruirci, per divenire, per svilupparci. Cioè, il divino che ci sta attorno interferisce con noi, specialmente attraverso la divinità libertà. E noi abbiamo questa libertà dentro di noi ed è fuori di noi nel mondo che ci circonda. Beccaria non ha fatto altro che cercare di tradurre questo concetto di libertà, trasportandolo, trasportando il concetto di libertà all'interno del sistema giuridico. E questo è importantissimo. Poi lui fosse massone o di qualche altra cosa. È poco importante. Perché ogni persona diventa quello che può essere in meglio nella sua epoca. Cioè, anche gli stessi stregoni. Tu troverai anche, per esempio, degli stregoni cattolici. Cioè, tu li troverai questi che almeno fingevano di andare in chiesa, fingevano di sottomettersi. Cioè, tutte queste cose le troverai sempre. Però spingevano per dare una direzione precisa al sistema sociale. Sì, infatti, una cosa che noi abbiamo sempre ribadito, che il paganesimo non ha mai un concetto di trascendenza, ma sempre un concetto di immanenza. Cioè, nel senso che tutto quanto è su questa realtà ed è raggiungibile in questa realtà e non c'è nulla al di fuori di questa realtà. Perciò, se tutto quanto è su questa realtà ed è su quella che è visibile ed è percettibile, qualsiasi cosa può essere raggiunta, modificata ed alterata. E qualsiasi cosa può essere raggiunta da tutti. Cioè, se io vado a piazzare un Dio, come fanno i monoteisti, al di fuori di questo mondo, posso trovare l'inganno di dire che solo i sacerdoti o gli eletti potranno raggiungerlo. Se io dico che il Dio cammina al tuo fianco, esiste su questa terra, e lo puoi vedere, lo puoi percepire, non ho bisogno della mediazione. Non ho bisogno che alcune categorie di persone mi trovino a questo Dio. Perché io lo posso andare a trovare, lo posso cercare, lo posso incontrare. Cioè, questa è la distinzione fondamentale appunto fra paganismo e monoteismo. Anche un concetto in cui possiamo vedere la differenza tra monoteismo e politeismo è questo qua. Ad esempio, i cristiani hanno sempre avuto la concezione della sofferenza, e hanno sempre avuto, quando sei colpito da Dio o sei colpito dalle disgrazie, devi sempre ringraziare Dio. I pagani non hanno mai avuto questa concezione di se questa divinità non ci aiuta nell'agricoltura, noi non avremo più frutti per offrire i sacrifici. Perciò anche il Dio mangierà meno. Perché abbiamo poi meno da mangiare noi. Se chi fa il culto è ammalato, potrà fare meno sacrifici, potrà meno fare il culto verso le divinità. C'era una vecchia storia, no, Francesco, di Domizian, sei quello che metteva rogo e che c'è il nome, pertanto per capire il concetto, no? E in un teatro romano è crollato alle balconate e sono morte delle persone. Cosa ha fatto l'imperatore? Ha fatto abbattere il tempio a teatrica. Tu hai distrutto me, non hai fatto quello che noi ti avevamo chiesto, gli ha fatto abbattere il tempio. È un po' tanto per capire che la mentalità stava un po' cambiando. Teatrica dovevano farsi gli architetti, dovevano farsi teatrica. Però il problema è questo, che la divinità non è che si deve essere sottomessi alla divinità, o la divinità ha una funzione, ci cammina a fianco, o noi non siamo debitori alla divinità perché lei è la divinità. Se noi siamo dei divini, esattamente come la divinità. Il nostro divenire eterno è esattamente come il divenire eterno della divinità. Quando io dico che Tellus è una divinità, la madre terra è una divinità, non è che mi metto in ginocchio davanti alla madre terra, ma cerco di camminare insieme, attingo energia e verso energia madre terra. Sono concetti diversi. Cioè io non mi sottometto alla divinità. Cammino assieme. Sì, no, questo è il punto fondamentale per fare capire quello che diciamo sempre, che non esiste sottomissione, e che neanche una forma di religione pagana può portare la sottomissione, porta sempre alla persona il potere di fare le cose. Tornando sul discorso appunto di prima, dicevo chiaramente, gli antichi pagani dicevano fa, se la divinità hanno metto, ad esempio, nel raccolto, e avrò uno scasso raccolto, avrò poco da mangiare anch'io, ma anche la divinità soffrirà la fame con me. Non stavano lì dopo a chiedere il perdono a Dio dei loro peccati. Ti dicevano, bene, io mangio poco, mangiare poco anche te. Se, ad esempio, il pagano diceva, sta male dal punto di vista fisico, dirà, io ho meno energia da dedicare al culto, e perciò la divinità avrà sicuramente meno di questo. Perciò, se tu vuoi sacrifici, se tu vuoi che ti faccia i culti, benissimo, mandami l'abbondanza dei raccolti, mandami la salute, e io ti sarò riconoscente. Se questo non lo fai, tu ne pagherai le conseguenze. Che questo, appunto, è un principio totalmente opposto a che avviene nel monoteismo, perché proprio il monoteismo è un invoco con continuo alla sofferenza. Cioè, perché, ad esempio, i pagani, come dico sempre, prendevano delle immagini di bellezza, e invece i cristiani prendono delle immagini di sofferenza, proprio perché c'è un punto di riferimento che è diverso. Cioè, noi non possiamo vivere nello squallore, nella bruttezza, nella mostruosità. Le cose non devono essere brutte e non possono essere brutte. Di conseguenza, più noi trascuriamo queste cose e più queste diventano pericolose, più noi trascuriamo l'ambiente, più noi trascuriamo, ad esempio, la divinità terra, e più la terra diventa abbattuta, meno c'è amica, ci diventa ostile, proprio perché viene trascurata. È come una forma di richiamo. Se noi riuscissimo a equilibrare queste energie, il nostro modo di essere, con queste divinità, logicamente l'equilibrio andrebbe ripristinato. Però questo è un equilibrio difficile da costruire e da riproporre, perché appunto il monoteismo è intervenuto ed ha annientato moltissimo. Perciò questo io dico, cioè, l'importante come paganesimo è sempre quello di pensare non a delle cose che fossero fuori dalla realtà della nostra vita. E tutto deve essere servito sempre in possibilità a tutti di dare questa cosa di fare. Non è un discorso, diciamo, livellatrice, ma dicendo che la divinità è diffusa, cioè dobbiamo sempre porre il nostro agire come pagani, come politeisti, sempre in questa realtà. Di conseguenza noi dovremmo sempre combattere contro le cose che sono questa realtà e che impediscono questa realtà di essere migliore. Questo è proprio un discorso fondamentale. Perché ad esempio, tornando sul discorso, ricollegandosi al discorso di Claudio sulla rivoluzione francese, perché ad esempio a un certo punto la rivoluzione francese aveva bisogno di fare, ad esempio, di fare le sfilate, di fare delle processioni laiche. Perché a un certo punto aveva il bisogno, ad esempio, e quando facevano queste sfilate, di riprendere addirittura i costumi degli antichi romani. Proprio perché si voleva ricreare un collegamento anche fisico con lo spirito civico di Roma. Cioè diceva, noi viviamo in una comunità e questa comunità ha bisogno di diritti, ha bisogno di comportamenti, ha bisogno anche di fatti esteriori. Se noi non riusciamo a creare queste cose, saremmo falliti. Di conseguenza, loro cosa facevano? Ricreavano anche dal punto di vista visivo, quasi per evocare, cioè proprio per richiamare, per rimanifestare, per risvegliare quelle cose che sono in fondo. Nel senso, intendiamoci ad esempio una cosa. Noi pensiamo dal punto di vista della psicologia che esiste, l'archetipo, cioè un modello di comportamento. Esistono delle cose, cioè dei modi di essere, che sono presenti da sempre su questo pianeta, perché questo pianeta è eterno, non è creato. Cioè questo pianeta è eterno, ha delle trasformazioni. Benissimo, noi possiamo modificare queste situazioni richiamandoci degli archetipi diversi. Logicamente, se si richiamiamo un archetipo del monoteismo, noi avremo un archetipo di distruzione, cioè un modello di distruzione. Invece, se si richiamiamo il paganismo, abbiamo bisogno di un archetipo di costruzione, di comunità. Come possiamo evocare questi modelli? Possiamo evocarli con il nostro comportamento. Faccio un esempio abbastanza semplice. Una scoperta scientifica recente, si diceva, si è scoperto che, ad esempio, non è la mente che modifica il sesso, ma che è anche il sesso che modifica la mente. Mi hai fregato, eh! Questo qua dovevo averselo io, dovevo parlarne io in rassigna stampa. Vabbè, allora lo lascio a Claudio. No, vabbè, no, è importante questo. Io adesso stavo prendendo proprio per la rassigna stampa. Allora, fra le altre cose, questo discorso che fa Francesco, è un discorso che volevo fare io, perché si rilascia a tutta la stregoneria. Io l'ho detto un miliardo di volte, e non esagerare come sempre, no? Che qualunque cosa facciamo, noi ci modifichiamo. La sessualità è importantissima per modificare noi stessi. Se noi pratichiamo sessualità, se noi viviamo bene, se noi affrontiamo la vita, se noi affrontiamo le contraddizioni della vita, ci modifichiamo strutturandoci per affrontare le contraddizioni della vita, per affrontare la nostra sessualità. Dunque, noi ci ampliamo, ampliamo la nostra capacità percettiva, ampliamo la nostra capacità di affrontare il mondo, ampliamo la nostra capacità sessuale, ma ampliamo anche la nostra capacità di comprendere il mondo, di cavalcare le tensioni del mondo. Per cui, l'azione che noi facciamo modifica noi stessi, ed il sesso è l'ultima cosa che viene a mancare quando noi stiamo per essere distrutti. Cioè, perché noi troviamo tanta stregoneria sessuale, per esempio specie nel Medioevo? Perché quando gli esseri umani venivano distrutti, l'ultimo centro di energia a morire era il sesso, e da là era necessario partire per ricostruire l'essere magico. Per questo noi troviamo tantissima magia sessuale. E praticare il sesso, fare il sesso, significa modificarci in termini positivi. E questo era dei ritagli che hanno... Sì, basta. Solo per fare un esempio così, ci ha ricollegato il campo magico. Un autore, che qualche volta io cito, che è Alastair Crowley, nell'istruzione per il nono grado dell'ordine dei tempi su Oriente, si diceva che se noi dovessimo perdere ogni ricollegamento con le divinità e con i dei, se anche noi dovessimo perdere la conoscenza di questi dei, avremmo sempre la possibilità di entrare in contatto tramite la sessualità, cioè proprio per dire che anche dal punto di vista magico veniva ripetuto fondamentale, e come l'unica possibilità per entrare di nuovo in contatto con certe energie. Un'altra cosa ancora, è stata scoperta nell'organismo una nuova sostanza anti-AIDS. Quando io leggo il libro d'Anticristo e vi dico, più è ampio il vostro campo vitale, cioè più affrontate le contraddizioni, più ampliate il campo vitale, e più aumentano le vostre capacità soggettive di resistere ai virus, di resistere ai batteri, eccetera, beh, è questa scoperta scientifica non è altro che una riaffermazione di questo. Nell'antichità diceva vai nelle orge per purificarti, cioè proprio nell'antichità non si faceva il ricorso di... Come fa la chiesa? C'è ora in diretta di qui? No, no, non volevo andare in diretta. Volevo solo Gigi. E niente, è nata a patrone. Ah, esatto. Sì, una cosa che ad esempio sul discorso della sessualità. Anticamente ad esempio venivano compiute le orge perché avevano uno scopo di purificazione di scaricare le energie. Addirittura si diceva se tu devi essere purificato vai nella orge proprio perché era la possibilità di far circolare energie di essere utilizzate, di essere indirizzate. Adesso appunto il Papa dice fa usate le castità ma appunto perché loro dicono usate le castità? Proprio perché sanno benissimo che così possono condizionare i comportamenti e condizionare i comportamenti e possono modificare anche la coscienza delle persone. Per fare un esempio anche a livello scientifico... Sì? Chi parla? Parlo con Claudio. Sì, sono io. Sì, ciao. Mi vogliono farle una domanda. Sì. Con la speranza di avere un ampio risposto. Spero di dartela, spero di poter dartela. Mi voglio... Siccome che la chiesa è sempre stata una grossa potenza, no? Sì. In tempo... Al tempo del nazismo, no? Sì. Quando si racconerà tutta che ha gente, milioni di persone nei campi di Serminio. La chiesa... E Gesù deve una bella risposta perché non ho mai avuto a me. E sui libri n'è nessun posto. La chiesa cosa si è data da fare per questi poveri disgraziati? No, niente. Li ha aiutato la costruzione dei campi di Serminio. Se vuoi ti do anche la lettura dei pezzi. Io ho già letto in rassegna stampa tutta una serie di articoli in merito. Ecco, questa è una risposta che penso che chieda tanti questa, eh? Che nessuno ne ha mai avuto, però, eh? No, no, ma guarda che intanto la chiesa cattolica sta preparando una richiesta di perdono per la sua attività di antisionismo e quando Hitler ha cominciato il suo più grande alleato era la chiesa cattolica. Antisemitismo? Ah, antisemitismo, sì. Anch'io sono antisionista, so che ho sempre. Per cui si sa questo, eh? Solo che non viene non viene propagandato. Certo. Però se leggi attentamente i giornali tu ritrovi queste cose. Anche la necessità di chiedere scusa da parte la chiesa cattolica. Chiede scusa ma io chiedo in una maniera che la gente non capisce però, eh? Infatti dal vomito. Ecco. Dal vomito. Però nel Veneto che se è più semplice non so. E un'altra perché vi faccio la che facciamo vi faccio domenica? Di me. La Sacra Rota? Eh? Come mai che su certi matrimoni li annulla con facilità. Cominciamo dalla Pivetti, no? Che faceva parte di un partito politico che alla chiesa non andava, no? Che basta che la Pivetti si stacchi la chiesa ha concesso anche l'unità del matrimonio. Eh? Anche questa mi sono chiesta come mai. Ti rispondo io perché? Ti, Claudio ti mi dai risposta metto sul telefono perché sull'interno D'accordo. Ciao. Sì, ciao. La risposta è abbastanza semplice. È sufficiente avere soldi tanti soldi da dare alla chiesa cattolica o è sufficiente dare alla chiesa cattolica il potere? La Pivetti non ha dato tanti soldi alla chiesa cattolica ma è stata presidente della Camera per cui aveva influenze politiche da vendere e allora ha avuto quello che altri non hanno potuto avere. Poi rappresentava un partito politico che poteva essere potenzialmente ostile o teoricamente postile e di conseguenza se hai la possibilità di fare un favore di questo mafioso io faccio un favore a te tu fai un favore a me e sistemiamo le cose. Andiamo avanti ancora con la segna stampa dopo leggo l'altro lo tengo come ciliegina quello amico di Alberto. Raid di Gorilla per liberare l'amico un branco di Gorilla costituito da una sessantina di esemplari ha seminato il panico per due notti consecutivi a Olmanze un villaggio del Camerun nel tentativo riuscito di liberare un compagno catturato quando io vi ho detto che per l'intervento per combattere gli esseri che sono autoproclamati Dio creatore la natura ha fatto un salto in avanti che non l'aveva fatto neanche fra un milione di anni non si tratta solo del polipo che apre i barattoli o dei ratti che passano per i corsi o degli insetti che si adattano tenete presente cosa sta succedendo in giro vediamo si per i fatti sono delle trasformazioni proprio anche a livello proprio della sensibilità degli animali sono io senti Claudio dimmi 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 senti voi sei rapida si mi piace la tua trasmissione prima di tutto io non vorrei niente ditemi il nome il che sei scritto magari cosa però sei scritto là il nome mio ma se ho un tiro di schiopo mi sono qua vicino va bene dimmi tutto ascoltami volto spiegarmi se non ti puoi dire un'altra volta si che non vedo nessuna protezione dall'alto come che si dice il padre eterno ascoltami mi ascolti si mi sono qua mi ascolto ascoltate una volta che sarai ebrei dall'egitto ma adesso non si fa più sentire sto padre eterno Dio ascoltami si non vedo nessuna protezione no tutta che gente che tribo è il mondo si ora chi c'è che protegge nessuno come via li proteggi nessuno il diavolo esiste niente 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 spiegami un'altra volta vorrei da un altro prelato che spiegasse queste robe ma mi pare mica i dici dei pandogni ma sai che stava una volta una radio che voleva fare un incontro fra me e un teologo il teologo il teologo è scopato ma sui 90 anni cosa vai studiare si studiava 25 anni i padri i religiosi il teologo è scappato il teologo è scappato ma scusami tanto di bello chi spiega queste robe perché non c'è che non c'è nessuna protezione perché qua dice tanto pregare 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 a chi anche a me vorrei saperlo oh vito state qua non c'è una protezione una volta che ha salvato il popolo ebreo deve che vi salva fino a su no no lì se ti spiego il popolo ebreo non ti ha salvato mi spiego che ti sarà no no su qua che ti ascolto come no anche a due minuti ecco bravo però non ci sta salvare il popolo ebreo eh che ho no ma scusami tanto no ti spiego il discorso del marco lo spiego io no ti spiego io la preghiera no meglio la preghiera che non ha nessuna iniziativa meglio meglio la porconare ciò che deve la dio maria attaccare ah si ma non ha nessuna iniziativa per i telemotati eh e tutti i tipi dai che tribula ma e insomma ti ascolto il tuo spazio dai ah beh senti dite chi mi spiega se no se no se no se no se no se no mi ascolto mi ascolto d'accordo certo ciao ciao è proprio pio si era spiego un'altra volta chiamete un teologo chiamete un teologo chiamete un alto prelato va bene poco carne ma come dice questa storia va bene ma ti ascolto o no nesta mi ero tanto religioso che ho preso la fede perché ho visto che non ha n'ha vido nada va bene questo lo sto attendo ciao ho visto che non ha vido nada perché predica tanto ma non ha cominciato niente ciao 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 certo io vorrei lanciare l'appello di questo nostro amico che ha perso la fede cattolica proprio perché altri prelati dice che non è che abbia molta fiducia gli altri prelati gli altri prelati da nonnes tutti gli altri sono pregati di spiegargli la fede in maniera diversa dalla sottomissione magari la fede in maniera diversa dalla sottomissione il mio amico Alberto cosa mi ha portato qui mi ha portato qualcosa di bellissimo dal deuteronomio non so se sapete qualcosa cos'è il deuteronomio è un petto della Bibbia e i criteri fissati a cui Israele deve a tenersi nei confronti dei nemici vinti aspetta la leggo dopo pronto? pronto ciao ciao Claudio ciao Francesco ma sto ridendo perché ho sentito quel simpaticissimo eh si dica quel simpaticissimo spontanea persona veramente divertente veramente simpatico ecco volevo fare una domanda se mi permettete sull'essere femminile nel senso che è più legato ai cicli naturali sì volevo sì parlare un po' con voi chiedervi come la pensate cioè la tradizione diciamo che le vuole eroiche generose e angeliche però nella cronaca spesso ci rendiamo conto che non è sempre così ecco e sanno eccellere diciamo sia in tenerezza quanto in perfidia e soprattutto adesso eh adesso faccio la 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 cioè quello che vi chiedo viene dopo vai tranquilla sì soprattutto diciamo che nei paesi civilizzati secondo una ultima ricerca dell'ONU e negli ultimi anni la delinquenza femminile è in aumento del 50% eh sì e la crescita eh continua allora diceva un criminologo che eh l'egosentrismo l'aggressività e l'indifferenza agli affetti sono eh le caratteristiche del criminale tipo ma questo vale sia per l'uomo eh che per la donna però dice che c'è una differenza molto importante quando eh la donna commette un delitto lo fa dice questo questo criminologo eh lo fa con più eh cattiveria dell'uomo con più crudetà dell'uomo la ragione è il cosiddetto eh tra virgolette codice materno cioè una capacità d'amore e di dedizione incondizionata totale persino eh irrazionale cioè la donna applica questo schema di comportamento a tutto ciò eh che le sta a cuore perciò quando sposa una causa anche se criminali eh se delituosa vi si dedica fino al al sacrificio assoluto ecco dunque lo specifico della della malvasità femminile essere estrema e perseverante ecco io volevo chiedere a voi come la pensate se arriviamo su un terreno molto difficile pronto sì sì vi ascolto d'accordo ti ascolti per radio sì metto giù ok d'accordo va bene grazie ciao ciao allora all'amica Francesca diamo una risposta veloce un po' e dunque io sono sempre titubante quando si applicano degli schemi fissi degli schemi la donna è questo perché l'uomo è questo perché l'uomo è questo cioè io so benissimo che c'è una una fonte fondamentale che è la nostra genetica e però il condizionamento educazionale del sistema in cui viviamo lavora in maniera preponderante per cui c'è una carica vitale iniziale e c'è un'azione sul sistema stesso però dire che un comportamento è criminale bisogna prima stabilire che cosa significhi per criminale e cosa equivale a essere criminali perché se criminale evadere le tasse siccome le tasse non sono un'oggettività fisiologica ma sono un'oggettività sociale essere criminali perché si evade le tasse è diverso che non essere criminali perché si stuprano i bambini cioè se il problema è quello di stuprare i bambini il discorso è un po' diverso se esistono delle delle imposizioni delle imposizioni fisiologiche talmente forti e talmente violente che quando si arriva a ribellarsi da queste imposizioni fisiologiche si mettono ancora più violenza e ancora più determinazione per cui l'essere criminale secondo me tutte queste questa scienza della criminologia scienza del comportamento psicologico mi lascia molto ma molto perplesso sia per il soggetto che è considerato criminale o da studiare sia il mondo in cui vive sia le sollecitazioni che ha subito sia l'intento che si prefigge sono molto molto scettico da questo punto di vista se non esistono i modelli assoluti di comportamento esistono sempre dei modelli che sono modificati alterati da un numero costante di situazioni poter dire che il femminile è solo una certa cosa o che si manifesta con estremismi di un certo tipo mi sembra non mi sembra che sia una cosa corretta nel senso che noi dovremmo considerare anche che certi lavori fatti dalla società fatti dalle strutture sociali dalle strutture religiose possono modificare alla fine il modello di comportamento esistono dei modelli alla base cioè tanto per dire esiste sì la possibilità di un comportamento ma questo comportamento non è mai unico cioè ad esempio il fatto stesso nell'induismo che esistono le caste non sta a significare che esista una distinzione fisica nelle persone ma che poi esista una distinzione di comportamento all'interno della stessa natura il che vuol dire che ci possono essere persone che sono uguali che vivono in una stessa società che hanno delle tendenze e delle situazioni diverse poi logicamente il sistema delle caste in indiano è stato un attimino rovinato decaduto da non considerare però qualcuno sostiene anche dal punto di vista psicologico che non esiste un unico comportamento ma che esistono ad esempio quattro comportamenti quattro variazioni basilari ad esempio anche la psicologia di riferimento junghiano tende sempre al numero quattro ma c'è quattro variazioni nel stesso modo di essere perciò noi potremmo trovarsi in alcune epoche in cui questo comportamento di un certo tipo viene esasperato viene caricato per fattori storici per scelte politiche per scelte religiose e se poi questo comportamento perdura tende a soffocare gli altri il fatto che questi comportamenti diversi vengono poi soffocati vengono emarginati non è che vengono rimosso cancellati cioè rimangono lì più uno tende a comprimere più tenderanno a esplodere di conseguenza più forti io cerco di indirizzare in un'unica via in un'unica scelta in un unico comportamento in un unico modo di essere una persona o una civiltà e più gli elementi che io dovrei considerare nel punto di vista organico o dell'armonia più li escludo e più loro tendranno a farsi vivi cioè noi non possiamo escludere come fanno nelle culture adesso molti elementi dobbiamo cercare di portarli dentro cioè di farli riemergere questi elementi il considerare in un contesto organico in una naturale manifestazione permetterebbe anche non di scaricarli ma di rendere meno violenti il sistema sociale in cui viviamo tende ad appiattire i comportamenti su un unico modello naturalmente siccome le variabili sono infinite e sono moltissime le variazioni e le ribellioni a quel modello sono infinite e avvengono come scelte dei singole persone per cui non so se alla base criminale c'è il comportamento delle singole persone che può anche essere censurabile o se invece è il tentativo di un sistema sociale di appiattire i comportamenti su un unico modello cioè la donna madre e moglie è angelo del focolare tanto più violentemente imponiamo questo ruolo e tanto più violentemente questo ruolo tenderà ad essere superato da un numero sempre maggiore di persone ora se io considero che tutti quelli che tentano di superare il modello di donna angelo e moglie del focolare sono dei criminali al di là se magari uno ammazza o non ammazza per superare il ruolo questo non ha nessuna importanza io dico che il numero di criminali è maggiore del numero delle donne che si adattano a quel modello per cui io ci starei attento cioè il valore soggettivo è importantissimo infatti perché nel paganesimo rivalutiamo la soggettività come elemento centrale perché ogni persona ha un suo sentire diverso al mondo ha un suo modo di svilupparsi un suo modo di intendere questa è la vera ricchezza di un sistema sociale ed è la vera ricchezza della stregonaria del paganesimo sì io vorrei aggiungere una cosa ad esempio che forse va a completare questo argomento ad esempio noi parliamo sempre del punto di vista religioso di paganesimo di politismo cioè di più centri dal punto di vista politico in certi ambiti italiani sta sviluppando ad esempio la critica del pensiero unico ma cos'è in sostanza la critica del pensiero unico cioè nel senso noi diciamo esiste un pensiero unico nel campo religioso che è il monoteismo e noi lo vogliamo combattere quel paganesimo quel politismo qualcuno dice ormai questa forma di pensiero unico che esiste nella religione si è tramutata che è nell'economia in cui il pensiero unico è l'economia ma non l'economia reale l'economia è svincolata e tolta dalla materialità delle persone perciò l'economia può orientare interi paesi può orientare intera nazioni perché l'unico scopo è il mercato l'unico è la logica del mercato questo esempio è un argomento del pensiero unico nel campo politico nel campo economico che noi dovremmo andare a affrontare se ci sarà il tempo se ci sarà la voglia se ci sarà l'occasione ma già questo qua dimostra come in ambiti diversi dal campo religioso che è il nostro esistono delle sensibilità che hanno individuato nel pensiero unico cioè un unico punto di riferimento un unico modello la nocività per l'esistente lo dicono noi stiamo distruggendo ad esempio l'economia stiamo distruggendo dei paesi perché il nostro punto di riferimento è il modello unico è il profitto se noi avremo solo questo punto di riferimento qualsiasi cosa potrà essere annientata e distrutta perché è l'unica cosa da raggiungere il profitto e questo qua è una dimostrazione come alla fine la nostra tesi di combattere il monoteismo dal punto di vista religioso si trova una corrispondenza anche nel campo politico e nel campo economico cioè il fatto appunto che tutto possa essere ricondotto ad un unico comportamento alla fine porta alla distruzione delle persone perché non tutte le persone nessuno potrà mai uniformarsi a un unico modello il sistema sociale diventerà politeista il sistema sociale diventerà pagano per necessità non perché noi riusciremo a convertire qualcuno al paganesimo tanto per essere chiari si no tanto per fare un esempio storico un prete Baccio Bozzo che appunto è famosissimo come scrittore nel 1986 lui ha scritto un articolo nel 1986 ha scritto un articolo sulla Repubblica in cui diceva il conflitto del futuro sarà fra monoteismo e politeismo si e nel De Teoronomi adesso cambio argomento di brutto nel De Teoronomi sono fissati criteri a cui Israele deve attenere nei confronti dei nemici vinti non si tratta di criteri uniformi il comportamento sarà diverso a seconda che le citate spugnate si trovino al di fuori della terra promessa oppure entro i suoi confini nei confronti delle prime le regole che Israele deve seguire sono queste dovrai passare a fil di spada ogni maschio adulto le donne invece i bambini e il bestiame e tutto quello che viene nella città tutte le sue spoglie le riserverai per te come bottino godrai del bottino dei tuoi nemici che Yahweh tuo Dio ti ha concesso così tratterai tutte le città distanti da te ma diverso è il caso di quelle su cui pesa l'inespiabile torto geografico di trovarsi entro il perimetro della terra promessa nelle nazioni che Yahweh tuo Dio sta per darti in eredità non lascerai alcuno in vita devi votare all'anatema atei amorrei cananei ferezzei evei zebusei come ti ha ordinato Yahweh tuo Dio affinché non ti insegnino a praticare tutte le cose abominevoli che essi fanno alle loro divinità pechereste contro Yahweh vostro Dio questo fa parte di un articolo apparso sul Corriere della Sera di giovedì 23 ottobre 1997 che l'amico Alberto mi ha mandato ucciderai i maschi adulti mentre roba donne bambini che tanto sono sempre roba no? li riserverai per te infatti se le donne sono roba chiaramente il fatto di essere considerate persone implica un livello di violenza altrettanto grosso di chi li ha ridotte a roba per cui ci saranno dei comportamenti che qualcuno qualificherà come criminali ma il criminale è chi cerca la libertà o chi impone la schiavitù punto di domanda e a voi la sentenza resta valido l'appello del nostro amico per il teologo che gli consenta di riavere fede vai francesco tutto tuo sì ecco io vorrei aggiungere una cosa sempre su un argomento invece di attualità noi purtroppo ci troveremo a vivere nel 2000 di una festività che non è una festività ma dovrebbe essere considerata una tragedia un lutto che è il giubileo il giubileo appunto è fissato per domani è Halloween beh no Halloween lo festeggiamo comunque lo festeggiamo il primo e il 2 di novembre noi pagani ecco una cosa si è costituito a Roma un osservatorio sul giubileo purtroppo questa volta non ho portato l'indirizzo ne parleremo casomai in una delle prossime trasmissioni hanno aderito parecchie persone a questo osservatorio sul giubileo è un'iniziativa diciamo laica ha aderito Ronchei ha aderito anche Giordano Bruno Guerreri che è stato citato per altre storie in questa radio e ha dichiarato chiaramente che è inammissibile che uno stato laico venga soprafatto da una chiesa cattolica e che imponga allo stato laico la necessità di festeggiare un giubileo ecco io mi riservo di punto di parlare più a lungo di questo osservatorio o sfruttare sul giubileo tenendo conto che è iniziativa pubblica fatta anche da persone che hanno una certa una certa fama un certo nome e anche perché ormai il giubileo a questo momento ufficialmente sono già stanziati 7 mila miliardi certamente è una cosa inaccettabile che è uno stato laico che si proclama laico o che dovrebbe essere laico vada a spendere 7 mila miliardi per festeggiare una data che loro stessi dicono che è fasulla perché lo stesso stregone polacco che c'è in Vaticano è lo stregone è cavoli è prete non offrendiamo la categoria volevo dire come reagiva Claudio diciamo quel buffone vestito di bianco che c'è che gira dalle parti di Roma e poi anche un mafioso organizzato la mafia contro le donne in difesa non ce lo dismentichiamo mai sarebbe da parlare ad esempio di tutto quello che fanno i cattolici contro ad esempio la legge sull'aborto che lì sarebbe da da parlare non solo quello che fanno legalmente ma quello che fanno illegalmente cioè noi ne abbiamo l'esempio tragico degli Stati Uniti in cui addirittura i medici che praticano l'aborto vengono uccisi l'aborto Francesco ma tu mi inviti a nozze amico mio tu mi inviti a nozze allora è apparso sulla Repubblica di sabato 25 ottobre 97 i dati sull'aborto aborti dimezzati in 16 anni bene qui praticamente la legge sull'aborto non ha portato altro che a dimezzare gli aborti che vuol dire che la scelta magari non era l'ottimale però è stata una buona scelta sono stati dimezzati il che vuol dire che è aumentata la consapevolezza nel fare figli bene sai di cosa si lamentano i cattolici? vuoi che te lo dica? guarda qua no il problema è mal posto perché intanto bisognerebbe aver chiaro che la percentuale degli aborti è ancora molto alta rispetto al numero delle nascite siamo a 1,29 bambini a coppia uno dei tassi più bassi del mondo bene questa gente vuole solo bestiame da mettere in ginocchio il suo dio che cazzo di rispetto non si può dare a sta gente? sì no ma basta pensare che io ho visto ho letto su una rivista cattolica fatta a Vicenza cattolica ufficiale riconosciuta che diceva che ad esempio che era aberrante fare la pubblicità ai preservativi perché era come dire al criminale vai a rubare che dopo c'è l'amnistia pensate solo all'argomento in cui sono arrivati a confronto che hanno fatto che hanno generato per una cosa del genere cioè vanno a reputare come istigazione delinquere il fatto di fare pubblicità ai preservativi poi pensiamo chiaramente a una cosa del genere noi abbiamo un Papa che dice ai farmacisti cattolici di non vendere i preservativi noi abbiamo un Papa che riesce a bloccare le campagne ad esempio di prevenzione dell'AIDS o che invitano a usare il preservativo e dopo ci impone di spendere 7 mila miliardi per fare il giubileo ma sai la cosa più buffa è che a parità di cause possibili di prendere l'AIDS un cattolico ha tre volte più possibilità di ammalarsi di AIDS che un non cattolico perché è quello il punto sì ma parte solo dal punto di vista meccanico e tecnico ma anche dal punto di vista esatto dal punto di vista della capacità energetica perché il fatto di essere messo in ginocchio uccide la capacità di energia è questo ma di fatti già il monotismo in se stesso può essere considerato un virus infatti io non mi meraviglio che ancora scusami poi vi lascio non è solo questione di AIDS le malattie nere che sembravano scomparse oggi stanno aumentando in maniera spaventosa è vero cifilide l'enorragia e cose del genere cose che fino a dieci anni fa sembravano assolutamente scomparse è vero ma di fatti questo è vero poi un'altra cosa avete notato che nonostante ci sia un governo nei sinistri non si è mai vista tanta propaganda pretesca in televisione come in questi ultimi tempi è vero basta passare alla scuola allora catto comunisti forse forse non è un termine abusato beh sai è una definizione sì solo così per mettere i puntini sugli perché secondo me questo sarà il governo che ci darà in mano bambina alle scuole dei preti eh sì purtroppo ho paura anch'io di questo sì altro che inciuccio ho paura di sì prepariamoci ok ciao ragazzi ciao ciao noi in effetti in effetti anch'io ho stesso timore purtroppo senti un omaggio all'amico Alberto che si propina a mandarmi sempre articoli l'amico Alberto legge assiduamente la padania e siccome sembra che fra partito di bossi e chiesa cattolica non cora buon sangue la padania pubblica una serie di di ricerche sui proventi delle curie e le ricchezze delle curie ricchezza delle curie a Bergamo miliardi che girano centinaia di miliardi non tassati eh io non so quanto questo sia vero ma non ho nessuna difficoltà a dire che sia vero beh basta pensare che lo IOR è un socio seppur di minoranza del Banco Ambrosiano Veneto si chi parla? ah buonasera questo è sono marzato dal tuo video questo è Franco Carraro no 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 lo trovo dall'altra parte si appunto basta pensare che ad esempio lo IOR ha partecipazione addirittura ad esempio per quanto riguarda il Banco Ambrosiano Veneto è una partecipazione di minoranza poi la metà della partecipazione è data l'alto impegno ad un'altra banca per motivi interni loro però esiste questa partecipazione dell'economia italiana esiste anche in tantissimi settori immobiliari io ho ricevuto una lettera dalla mia banca che mi invitava a fare il versamento per sostegno al clero io ho visto ad esempio dai commercialisti che ad esempio all'inizio dell'otto per mille la CEI aveva fatto una lettera solo ai commercialisti invitando di dire invitate i vostri clienti a versare l'otto per mille alla chiesa cattolica cioè nel senso tanto per fare un esempio anche più stupido io leggo il sole 24 ore ed è l'unico quotidiano in cui viene inserita la busta della CEI con la letterina di versata l'otto per mille l'otto per mille alla chiesa cattolica io leggo altri due quotidiani e non ho mai trovato la bustina della CEI dentro gli altri quotidiani questo proprio per dimostrare cioè anche l'impegno che profonde la chiesa cattolica alla CEI per avere soldi poi logicamente loro vanno a imporre dire la televisione è negativa la televisione è inutile è cattiva però i soldi per la pubblicità dove li vanno a prendere ricordate che senza soldi non esiste cattolicesimo e poi basta pensare che ad esempio un'altra cosa adesso esiste anche Televaticano e beh questa Televaticano ciao complimenti per la trasmissione grazie siccome io la seguo sempre questa trasmissione non ho sentito nessuno che abbia detto un fatto che a me è rimasto proprio un po' quali? con il terremoto no? è andato mandato dal grande Papa Polacco non è andato lui di persona perché si è presentato comunque un tizio ma sai io ho parlato ho parlato con Giove no? io ho parlato con Giove hanno detto che da quando hanno fatto la processione no? per San Francesco aspetta che ti finisci il discorso e quindi è andato sto tizio e ha carezzato due bambini si è scusato dicendo che sono tutti come ti posso dire nelle preghiere del Papa e che comunque lui non poteva andare perché di salute non stava tanto bene cavolo si stanno preparando perché deve fare l'ennesimo viaggio eh sì non ho capito bene cioè se non ho capito male a Cuba eh purtroppo ecco allora lui per andare dai terremotati e stava tanto male e adesso il prossimo viaggio ma sai Cuba c'è un popolo da distruggere esatto e quindi la vita è lunga eh la vita è lunga questa roba ciao ragazzi ciao grazie ciao pronto Claudio il pomeriggio mi avevo incontrato con un'amica che ti ha detto di bello eh mi diceva proprio guarda non sei partita da me perché ormai so un po' e mi diceva ma possibile che questo Dio si sia dimenticato prima che fa andare sulle case e dopo che porta via le tende eh e guarda veramente e si era proprio dimenticato questa gente no no ma questo sono stato io eh no 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 mi diceva un'amica ieri e allora guardavo e dice allora c'è anche un tuo pensiero non c'è solo il mio e dove c'è questo Dio possibile che se hai proprio dimenticato questa gente eh invece sono di di questi e di tanti altri e questo è solo questo gira la domanda a chi di competenza eh ma comunque ma scusate altronde se il Dio però oggi non lo so ma mi ho dico ascoltare la vostra sorella cooperativa di un emittente eh e ho sentito un ascoltatore che si è intervenuto un po' in carico veramente sto male e diceva ma guarda che si è morto sto Carraro Franco e allora il prete che gli ha chiesto Donaldino che gli ha chiesto ma dimmi il nome e io gli ho detto che sei un certo Roberto sì sì insomma gli ha detto che si è morto mi proprio che ho creduto eh che ho creduto e ho telefonato a voi e ho sentito Carraro e allora ho detto ho messo il suo non ho detto altro ma è una cazzata questo non ho detto altro ho detto ma allora come si fa ad arrivare a tanto così cosa eh Claudio come si fa eh la demenza senile il grow pound e anche i menti giovani anche i menti che dovrebbero essere giovani va bene Claudio ciao ciao buona serata sì bene io invece io invece cambio argomento e io ho parlato con Giove ha detto ho mandato i terremontati un sole che spaccava le pietre ho tenuto duro perché non arrivasse il freddo e si andava a fare la marcia per San Francesco eh no hai capito e si è arrabbiato no anche perché mi dispiace per il terremontato però lui si è arrabbiato no sinceramente San Francesco è uno dei peggiori santi che ci possa essere anche perché è uno dei più recenti cioè basta pensare che ad esempio San Francesco ha fatto quell'invenzione stupida che è il presepe cosa sia il più brutto dell'idea del presepe di quello che ha tirato fuori di tutte quante diciamo la iconologia del presepe basta pensare che San Francesco è stato come santo uno dei più disgraziati perché è stato insomma il primo santo in cui le manifestazioni di Dio ha coinciso con le stime che a te basta pensare che San Francesco che cosa mi fa ancora più arrabbiare ha convertito il lupo vedi Francesco cosa ci divide fra me e te tu San Francesco non ti piace per questo e lo attacchi per questo io invece lo attacco perché non riesco a capire perché una persona che è ricca ha delle disponibilità finanziarie e vuole dare una mano a qualcuno deve farsi povera esatto non lo capisco per me è demenza cioè è una follia cioè veramente è la bassezza umana la distruzione dell'umanità se io voglio dare una mano e sono ricco continuerò ad essere ricco e alimenterò la mia ricchezza e userò la mia ricchezza per aiutare le persone perché devo farmi povero cosa ho da dare alle altre persone se io mi faccio povero do quello che ho dopodiché non ho più niente da dare significa che non sai amministrare quello di cui dispone anzi lo distruggi ho la distruzione di me stesso e la distruzione della possibilità di continuare è arrivato appunto che la manifestazione di Dio coincideva con la distruzione del corpo fisico com'è ammissibile pensare per noi pagani che la manifestazione del Dio deva coincidere con la distruzione di un corpo fisico o con la sofferenza di un corpo fisico ma con la distruzione di niente il divino si costruisce non si distrugge sì no ma basta pensare che San Francesco è stato il primo santo se non sbaglio che ha avuto l'estima che ha avuto appunto il simbolo della crocifissione che per noi appunto è un orrore dal punto di vista estetico e dal punto di vista divino cioè com'è ammissibile che un Dio si manifesti e porti sofferenza alla persona su cui si manifesta cioè lo può essere per un masochista cristiano ma non certo per un pagano perché questo è inammissibile gamma 5 ecco sono qua dimmi tutto ecco pronto buongiorno buongiorno ciao grazie allora bisognerebbe però tornare o avere avuto la possibilità di vivere parecchi anni addietro quando? quando praticamente nelle famiglie bene quello che girava soprattutto nelle famiglie ricche era sempre sacerdote del paese e la famiglia ricca era sempre protetta venerata e così cioè tu per quante cose facessi eri sempre una bravissima persona se davi tutto alla chiesa se capisci? sì allora il dare i poveri saresti sempre rimasto un delinquente se tu invece dai alla chiesa per quante ne fai sei sempre un'anima pia beh mi hai capito? sì è buono perché in quante adesso io vorrei che qualcuno avesse la possibilità di andare a vedere che fin pochi anni fa ci sono state anche delle cause tutto in provincia di Treviso perché avevano avevano raggirato gli anziani che stavano morendo anche adesso e avevano colto l'eredità ai figli ve li ricordate queste cose qua certo ecco quando io mi ricordo qualche anno più di voi e mi ricordo e ho la disgrazia ho la fortuna di essere nata e cresciuta una famiglia benestante io mi ricordo che quando stavano morendo gli anziani allora i genitori i nonni queste cose qua no i genitori di mio papà i nonni di mio papà perché poi dopo le generazioni sono cambiate qualcosa si è cominciato a capire ma quando regnava anche con i soldi regnava la totale ignoranza nelle famiglie quando l'anziano di famiglia che era sempre quello che portava avanti tutto soldi segreti nessuno sapeva cosa c'era perché i soldi non andavano messi fuori di casa erano sempre nascosti in qualche parte no e nessuno sapeva niente quando quest'anziano guarda che il prete viveva giorni e giorni e giorni al capezzale di queste persone e per salvare l'anima soprattutto tiravano fuori se il figlio il nipote aveva fatto un dispetto a quest'anziano nella vita mettevano quest'anziano in condizioni a dire allora non meritano niente dono tutto alla chiesa ai poverelli a questo a quell'altro e questi erano i lassiti cioè ma non vi sto raccontando palle no no è vero è vero confermo confermo ecco mia madre che è mia madre e non c'è più poveretta lei si privava di tutto noi figli dovevamo andare là a portarle tutto vestirla e aveva una pensione altissima ma lei la sua pensione è sempre data agli orfanelli di San Antonio voglio vedere San Antonio quanti orfanelli aveva sì o era un grande figlio di buona donna che ha fatto figli con tutti quanti ma di orfanelli non mi risulta che ne avesse tanti fino a pochi anni fa capisci e poi senza pensare le sommensioni che dà lo Stato a questi istituti per ecco e arrivavano questi bollettini in casa sparivano soldi a tutto spiano io voglio andare a vedere vorrei trovare le persone che invece perché quando io parlo così poi dopo so che mi attiro d'osso le ire della più parte della gente non ti preoccupare io sono un buon profumine vorrei vedere quante sono le persone che hanno il coraggio di dire cosa succedeva nelle famiglie tipo i miracoli che una volta guarda caso c'erano vedevano facevano a parte che il vino volava ragazzi perché una volta non sapevano gestire come adesso era come la droga di adesso ma il vino una volta lo bevevano gli anziani di conseguenza dopo di notte vedevano di tutto si si vedevano di tutto sono d'accordo ecco e c'erano tanti di quei miracoli la madonna che non ti dico adesso guarda caso ci sono qualche imbezzine che tira fuori qualcosa protetto prima di dare conferma che hanno visto che hanno fatto passano generazioni si che si è dimenticato il particolare io ho un appunto che le lacrime della madonna sono olio d'oliva ecco e insomma ma aspetta te però te fra cent'anni o fra cinquanta adesso non so quanti anni hai tu non ci sarai più e questo ricordo sarà passato però i documenti che sono stati scritti le varie perizie le varie cose rimarranno e queste saranno le cose che andranno avanti dopo ma io io faccio la segna stampa e lascio in eredità qualcuno per creare tutte queste cose qua capisci capito a fondo chi è che ci va a vedere ogni santuario che è nato da che cosa è nato e che razza di supermercato è si buona giornata grazie ciao io però io però sono arrabbiatissimo come una radioascoltatrice che non sento più mi è venuta in mente mentre stavo parlando con l'amica qua io c'è a Susanna che non la sento più chissà forse mi odia vuoi essere a Susanna in ascolto se un giorno vuoi telefonarmi mi fa molto piacere perché sono molto triste a non sentirla più sì beh vedo che ricordo che chi vuole intervenire può chiamarlo 049 700 700 ciao e io non sono intervenuto fino adesso perché stavo bevendo quello che dicevate allora stavo anche tenendomi appunti no ho tenuto per un sacco di tempo che non ti sentivo più e toccone non mi scorda più non mi telefono ma lo racconto sempre 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 grazie comunque volevo dirvi che questa trasmissione di oggi è stata veramente interessante e anche gli interventi di tutti quanti mi sono piaciuti e volevo anche beh tolgo l'occasione perché sono rimasta molto capita quando colpita quando hai parlato del fascino cioè per me è affascinante della sequenza dei mutamenti che è cambiata che è diventata più frenetica dopo la rivoluzione francese no? sì e allora volevo chiederti una cosa e quando parlavi appunto di questi filosofi tu hai detto che non è tutta farina cioè praticamente non è tutta farina del loro sacco quella loro la loro praticamente la loro cultura la loro sapienza si specchiavano il loro tempo è e tu praticamente hai detto che loro hanno raccolto le energie delle tensioni della gente sì e cioè praticamente questo succede anche a noi allora certo cioè quello che noi impariamo qualche volta ci capita nella testa qualche idea nuova strana qualche idea qualche volta siamo illuminati qualche volta capiamo qualcosa che prima non capivamo no? c'è l'improvviso questo arriva questo è il divino che arriva in armonia col nostro divino ho capito allora sei tu che mi mandi messaggi ho capito interessante comunque ricordati che io sono in trasmissione anche dai 7 alle 20 eh io ascolterò senz'altro e volevo dire magari vi telefono un giorno magari possono mandare delle cassette mancanti che adesso non so quali siano se vuoi ti manderò anche dei libri certo certo anche perché i libri di Claudio sono in edizione economica perciò non sono problemi ma sono contenta a contribuire anche finanziariamente al Paganese grazie ma non ti preoccupare ce la facciamo ancora comunque volevo anche mi dispiace tanto non so cosa sia successo a Franco comunque voglio esprimere tutta la mia solidarietà e spero che comunque sia un un episodio cioè che sia una cosa provvisoria cioè che poi tutto torni normale come come prima sì sì non ti preoccupare comunque Franco ha due belle spalle robuste non si arrende per così poco sì appunto so che poi lui non vuole dare certo soddisfazione a certa gente va bene grazie Susanna mi fa molto piacere che mi avete che avete parlato di me che vi siete ricordati di me vi saluto ciao grazie ciao andiamo con l'ultima telefonata perché stiamo per chiudere e metteremo su una cassetta di Mario perché forse Mario non viene pronto? ciao Dio sì ciao ciao sono la Roberta ciao Roberta dimmi tutta senti voglio dirti una come dici te una cazzata dimmela non sgridarmi no 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 voglio raccontarti una barzelletta dimmi c'è uno che sta morendo no? chiama vicino il prete sai a proposito dei preti che sono vicini agli ammalati no? sto qua è pieno di soldi e li vuole tutti nella cassa arriva il prete non riescono a metterli dentro non riescono a chiuderlo perché ci sono troppi soldi capito? e il prete va a andare al suo superiore a chiedere cosa deve fare insomma sta via due giorni questi non vedono mai arrivare il prete aspettatemi aspettatemi che vi porto io la soluzione dopo due giorni arriva ho trovato gli ha firmato un assegno e si è portato via tutti i soldi vero e così l'assegno non hai capito c'è rimasto nella cassa certo e si è portato via i soldi bella ciao ciao Roberta ciao e quando si cita capacità di organizzazione l'ultimissima dai da volo si pronto? pronto pronto si bene noi chiediamo qui la trasmissione Magia Stagonaria Paganesimo Francesco se vuoi dire qualcosa sì beh io appunto sarebbe qualche cosa da chiudere che abbiamo aperto molti discorsi e comunque quello che vorrei sempre dire è di cercare di non fidarsi di chi si proclama rappresentate di un Dio superiore perché non c'è nessun Dio superiore cercate di vedere il mondo tramite i vostri occhi di non delegare niente a nessuno di cercare di essere voi stessi e che quello che vi serve vi è intorno basta saperlo cercare prima si parlava del pensiero benissimo i pensieri sono nostri ma sono anche i pensieri degli altri che noi possiamo intercettare e possiamo utilizzare cerchiamo che questi pensieri siano i più affini ai nostri e che sono pensieri di libertà cerchiamo appunto di non farci annientare cerchiamo di non avere pensieri che ci siano non diventano degli incubi ma dei pensieri che sono dei pensieri di libertà come appunto dicevamo prima i pensieri viaggiano cercate di sintonizzare il vostro pensiero su qualcosa che sia di positivo anche perché le divinità pagane camminano al vostro fianco gli dei pagani sono ancora in giro per le strade per il mondo perciò voi potete benissimo vederli cercarli ecco io voglio ricordare appunto che i libri di Claudio sono tanto un scendolo in edizione economica per chi è interessato al bollettino di informazione che inviamo può scrivere a istituto mediterraneo di studi politeisti casella postale 53 36073 Marostica Vicenza chi vuole invece scrivere a Claudio gli do l'indirizzo visto che Claudio ha il telefono è Claudio Simeoni via delle Vignole 4 30 175 Marghera Venezia ecco la prossima volta noi potremo dare anche indicazioni circa il costo dei libri di Claudio che sono andati pubblicati da poco ne sono sti tre sicuramente comunque noi lasceremo qua in cooperativa nel negozio di fianco qua alla radio di varie copie e di conseguenza non sarà bisogno neanche di scrivere o di contattarsi Francesco ti saluta Gian Paolo ricambio i saluti ecco altre cose caso mai altri argomenti che voressero essere approfonditi basta che si vengano richiesti ecco una cosa che io vorrei fare come invito visto che il prossimo secolo di trasmissione si parla di paganesimo contemporanei cerchiamo di fare il possibile che fra qualche anno non ci sia più monoteismo che si rompa le scatole e ci possiamo trovare qua solo a parlare di paganesimo bene chiudo la trasmissione chiudo la trasmissione magia stragoneria paganesimo io sono Claudio Simeoni via del Vignole 4 Margher come ha già detto Francesco a risentirci la prossima volta adesso metteremo su di Mario una cassetta attenzione che non c'è Mario metterò su una cassetta arrivederci e a risentirci grazie a tutti Grazie a tutti.